è incredibile, è incredibile, mamma mia ricerca della macchina che ovviamente è sotto tutto il mucchio la nostra è questa e niente la macchina ciao raga guarda qua, e qua ne è caduto un altro, pure bello grosso sto facendo un video il lago di Cologno cosa si pesca? Salmonato?